Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 fino alle 15 per una manifestazione sportiva è chiuso il tratto tra il video della variante di Valico e Aglio in direzione Bologna. Il raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per l'A1 di Firenze in Pruneta. Sulla Fibili per intervento di riprissino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare. Per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, in piazza Edison previsti restringimenti di carreggiata e spostamento della fermata Ataf. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!